partiti al comando si porta a AirDryer nei confronti di Little Oara e Astragalus un po' incerto al via siamo ora a metà gara con AirDryer che prosegue in vantaggio allo seccato tallonato da Little Oara che ha poi a largo Astragalus siamo a 350 dal palo AirDryer in leggero vantaggio nei confronti di Little Oara che ora lo attacca a fondo a largo dei due cerca di avanzare anche Astragalus nel tratto finale a 200 dal palo Little Oara in leggero vantaggio su AirDryer a largo si propone anche Astragalus nel finale AirDryer rientra all'interno nei confronti di Little Oara ed è AirDryer su Little Oara e Astragalus ma andiamo a rivedere il replay visto anche il minimi distacchi tra i due AirDryer è ritornato in vantaggio negli ultimi cento metri all'interno di Little Oara in sella Dario Vargiù e sul palo un'incollatura abbondante di vantaggio nei confronti del di Little Oara numero cinque e di Astragalus quindi uno cinque due il probabile e ufficioso arrivo della prima corsa di Agnano all'interno al